Gentili telespettatori, di nuovo nel mio regno, costituito da rocce, sentieri, boschi a volte impenetrabili, nelle mie valli preferite, cioè le valli bresciane. Qui siamo in Val Sabia, come vedete il cartello dietro di me, Pertica Bassa. Perché sono venuto qua oggi? Per fare un itinerario che toccherà anche il territorio di Pertica Alta, arrivando fino a Piombatec, Piombatico, sotto il monte Tegaldine, sotto il monte Pezzeda, a 1.400 metri d'altezza. Perché tutto questo? Come vedete, tra le mie mani ho un pezzo di roccia verde. Poi c'è la varietà rosa, rossa, che è l'arenaria di Val Sabia, che ci accompagna da Vestone fin qua, dal periodo carnico, circa 225 milioni di anni fa. Sono venuto qua perché tema di questa puntata sarà anche la variegata espressione geologica che rappresenta come campione il Triassico, periodo geologico che va dai 250 milioni di anni a circa 200 milioni di anni fa, che culmina appunto finale con la Dolomia, poi vedremo nella Corna Blacca. Un percorso di milioni di anni, Triassico, molto interessante anche dal punto di vista paleontologico, difatti qui ho trovato molti fossili, microfossili, e in pratica un percorso che si può trovare anche in Valtrompia, anche in Val Camonica, con delle componenti un po' diverse. Queste rocce dietro di me, anzi alla mia destra, non sono più costituite dall'arenaria di Val Sabia, ma qui abbiamo il punto d'incontro tra l'arenaria di Val Sabia e la roccia precedente nel tempo che risale all'adinico superiore e al carnico inferiore, cioè il calcare di Esino. Questa è una bellissima palestra di roccia, chiamata roccia 23. È una roccia che parte dalla Venone e attraversa tutto il territorio, a sud delle Levrange, poi va nel territorio di Pertica Alta e discende verso la Valtrompia. Proprio una stratigrafia molto evidente. Ecco, uno dei tanti campioni di cui sto parlando, di questa espressione geologica che poi anche in un certo senso si collega con quella vegetazionale, che affronteremo appunto nella puntata di oggi. Adesso stiamo andando verso Fornodono e poi saliremo fino all'Ivemmo, dove appunto prenderemo l'auto fuori strada e saliremo fino al Pian d'Albe. All'Ivemmo, dove appunto prenderemo l'auto fuori strada e saliremo fino al Pian d'Albe. All'Ivemmo, dove appunto prenderemo l'auto fuori strada e saliremo fino all'inizio. Le mie divinità celtiche oggi mi aiutano, avevo pensato che il tempo potesse essere brutto, invece potremmo trovare un bel cielo sereno che rende giustizia di questi paesaggi quando ci nirpicheremo verso sentieri in alto, verso i 1.400-1.500 metri. Salendo da Vestone verso Forno Dono notiamo che c'è tutta una stratigrafia che porta ad ambiti del Triassico più antichi, prima abbiamo visto il calcare di Esino, prima l'arenaria di Valsabia, poi più antico il calcare di Esino, ora siamo nella formazione di Wengen, una formazione più antica rispetto al calcare di Esino e che ha contatto appunto col calcare di Esino, in certi casi si presenta cronologicamente anche insieme ed è costituito da queste rocce verdastre che in molti casi sono disposte con una forma stratificata che contengono anche dei fossili molto interessanti come le daonelle, anzi le daonelle stesse fatte a forma di ventaglio caratterizzano proprio questo ambito. Ci sono dentro elementi vulcano classici, cioè derivanti da eruzioni vulcaniche, dentro materiale continentale ma anche materiale di deposizione marina, calcare di formazione di Wengen. Qui assistiamo andando avanti alla formazione di un'altra componente, la formazione di Buchenstein caratterizzata dalla presenza di tuffiti verdi, ma queste le vedremo più avanti. Andando avanti ancora di più assisteremo al calcare di prezzo e più avanti a quello di angolo, quindi sempre di più verso l'inizio del Triassico. Poi di nuovo a testimonianza dell'estremo sconvolgimento che è avvenuto a livello tetonico durante la formazione delle Alpi, vedremo altre rocce più giovani. Cosa è successo? È successo che c'è tutta una linea, quella dell'anticlinale 7 della provincia di Brescia, che attraversa dalla Val Camonica fino al Lago d'Idro, questi territori con rocce più giovani tipo Dolomia, tipo Arenare di Valsabia, che in realtà vengono sovrascorsi da piastroni di formazioni triassiche inferiori, anisiche e ladiniche, che abbiamo appena accennato. Calcare di angolo, calcare di prezzo, formazione di Bukestani e formazione di Wengen. Questo per dire come la creazione delle Alpi abbia sconvolto tutte queste stratigrafie ben ordinate che c'erano fino allo scontro della placca europea con quella africana, per dirla in parole povere, in realtà il processo è molto più complesso e abbiamo appunto la formazione delle Alpi con tutta la sua geologia molto disordinata in certi casi, che è ancora motivo di diatribio tra i vari studiosi. E proseguiamo il nostro percorso ora per vedere le altre due successioni e poi andiamo verso Livemmo. Ora che si è essiccata, su queste rocce cresce molto bene la Nepeta, Nepitella, un tipo di menta profumatissima, che io utilizzo anche per preparare delle tisane e anche per insaporire il cibo. Poi qui vediamo anche la presenza di un tipo di sedum con i chicchi molto appressati, micodesis, che è tipico appunto di queste formazioni rocciose, insieme a una grande varietà di muschi, perché l'ambito è anche abbastanza umido, perché dobbiamo dire che il territorio della pertica alta e bassa è caratterizzato da un notevole aspetto di reticolo idrico minore, oltre al torrente Degnone, che vedete alla mia destra, che scava tutto il territorio partendo dalla cima Tegaldine e Osero fino a Vestone e che caratterizza proprio l'ambito della pertica bassa. Torrente Degnone che nasce dalla confluenza di vari affluenti che discendono dalle convalli della pertica bassa, ma nasce ai piedi della corna blacca, che poi vedremo, spettacolare massiccio, che caratterizza appunto il territorio, e dalla confluenza col torrente Glera. Quindi è un torrente che mostra nel suo percorso tutta questa stratigrafia del Triassico. Risalendolo si vedono tutte queste componenti. Vi dicevo che risalendo la valle trovavamo rocce sempre più vecchie che si rifanno all'inizio della parte inferiore del Triassico. E appunto abbiamo il calcare di prezzo, dal nome della località trentina dove è apparso evidente i primi studiosi, che poi attraversa tutto il territorio fino alla Bergamasca. Però questo per esempio è calcare di prezzo che testimonia dell'estrema contorsione che ha subito il territorio durante la nascita delle Alpi. Ci sono rocce che hanno tetonica fragile e rocce che hanno tetonica plastica. In questo caso queste rocce si sono pian piano, con spostamenti di pochi millimetri all'anno nel corso di milioni di anni, hanno subito questa contrazione, distensione e varie altre cose, che ha dato questa caratteristica conformazione. Più sotto vediamo probabilmente le ultime fasi del calcare di angolo e tra il calcare di angolo e quello di prezzo molte volte si trova il banco a brachiopodi, una particolare stratigrafia che contiene grandi quantità di gusci di animali antichissimi di 242, 243, 244 milioni di anni, cose che troviamo anche al chiodo d'oro di Bagolino, che in pratica sono simili a bivalvi ma appartengono a un'altra categoria zoologica, i brachiopodi. E quindi qui abbiamo il calcare di angolo sotto il calcare di prezzo. Andando verso il paese di Levrange invece troviamo una stratigrafia più recente, che è quella della formazione di Buchenstein. Come vedete è molto variegato il territorio qua dal punto di vista proprio geologico. Qui dentro io ho potuto osservare al microscopio la presenza di crinoidi, gigli di mare e tutta una serie di piccoli gusci, sia di foraminiferi, protozoi, anche abbastanza grossi, e molluschi. Ecco, vedete il calcare di prezzo che poi passa alla formazione di Buchenstein? Come è piegato in una piega a gomito? Qui c'è materiale proprio per gli appassionati di geologia, per i geologi, perché si vede come tutte queste rocce hanno subito il travaglio durante la formazione del cosiddetto territorio sudalpino, cioè a sud della linea in Subrica, che è la linea che divide dalla Val Venosta fino al Canavese, in provincia di Torino, i due assetti, in realtà sarebbero quattro assetti strutturali delle Alpi, l'Elvetico, il Pennidico, l'Austroalpino, a nord della linea in Subrica, in Subrica chiamata anche nel territorio di Brescia la linea tonale e anche chiamata linea periadriatica, e l'aspetto sudalpino, la posizione degli strati di rocce a nord di questa linea e a sud di questa linea ha vergenze completamente diverse. È proprio una caratteristica appunto di questa componente di divisione delle Alpi. qui siamo nel sudalpino e qui abbiamo i primi aspetti del Triassico, in realtà il Triassico inizia col Servino, quando il mare incomincia, della Tetide incomincia a prendere componenti continentali, abbiamo le deposizioni poi con aspetti aridi, con la formazione di anidriti, che abbiamo già visto in altre puntate in Valcamonica, poi abbiamo la formazione di Servino, poi le formazioni idritiche della formazione del carignolo di Bovegno, che troviamo anche qua alla pertica bassa, andando verso l'acqua bianca, l'abbiamo prima del bivio che sale a uno degno e sopra questa abbiamo il calcare di angolo che abbiamo visto là e poi il calcare di prezzo. Perché il sovrascorrimento è avvenuto qua? Perché c'è stato uno scivolamento di piastroni di rocce molto più antiche sulla carignola di Bovegno che in molti casi funziona da scivolo. Ecco perché alla base di tutte queste componenti, come vedremo anche a Livemmo, c'è questa roccia giallastra che costituisce anche l'edilizia locale, e infatti l'edilizia locale testimonia la geologia locale, e che appunto è questo scivolo sul quale si è impostato il cosiddetto sovrascorrimento di forno dono, che vedremo anche a Livemmo e che vediamo fino quasi al lago di Hidro. Qui vediamo la Val della Glera, che è un termine antico che tradisce un aspetto toponomastico barra dialettale precedente alla trasformazione della GL latina di Glarea, che è ghiaia, sabbia, in Gera, che avviene nel Lombardo orientale e anche in tutta la Lombardia. Glarea, Glera, questa valle è molto importante dal punto di vista geologico, qui assistiamo a tutta la dislocazione del Triassico, dalla Carniola di Bovenio in fondo, dove c'è Forno Dono, fino a tutto il Triassico, fino là in cima, con la Cima Osero e anche il Tre Galdine, dove abbiamo anche la Dolomia principale. Là, in quella cunetta, è dove andremo, cioè Piombatico, un piccolo cenno di toponomastica. Cima Osero, Oser, in dialetto, che vuol dire la cima della eusa. L'eusa è, nel dialetto del Lombardo orientale, il Fraxinus Excelsior, cioè il frassino di montagna. Infatti, là ci sono boschi, diciamo, di frassino di montagna, che può venire alto anche fino a 30-35 metri. Una pianta imponente, che una volta si trovava anche nella flora planiziale della pianura padana. E là c'è, diciamo, il crinale di Po, che deriverebbe da un podium latino, che vuol dire balcone, poggio. Difatti è un punto estremamente panoramico. Peccato che la strada che porta su è molto aerta, difficile, ma veramente da là si vede un panorama spettacolare. Ecco, risalendo dalla località Odeno, molto interessante perché è un termine che troviamo anche in Uden, in dialetto, e in Uden, dialetto friullano per dire Udine, che è un termine antichissimo di origine celtica, che vorrebbe dire abitato. Ecco, risalendo da Odeno in direzione dei Ruc e poi di Pian dal B, notiamo di nuovo la presenza di tutto questo triassico che accompagna questi dossi fino in Val Trompia, poi anche fino in Val Camonica. Vi parlavo della formazione di Buchestein, caratterizzata da queste rocce verdi, che sono tuffiti e aspetti vulcanoclastici, testimonianze di antiche eruzioni vulcaniche del periodo ladinico, intorno ai 240 milioni di anni fa, che per alcuni milioni di anni hanno imperversato in questi territori. Per citarne una, anche il Monte Muffetto, che si trova sulla versante tra la Val Camonica e la Val Trompia, i cui effetti di deposizione di ceneri vulcaniche sono arrivate fino al chiodo d'oro di Bagolino, come testimonia il grande lavoro di Brac e di Schirolli, e sono arrivate fin qua. Ecco, questa verde è appunto una di queste rocce vulcaniche che caratterizzano la formazione di Buchestein. Vedo se trovo anche un'altra pietra verde, ancora più verde. Eccole qua, che io utilizzo anche per mulare gli attrezzi. Deposizioni un po' continentali, un po' vulcaniche e un po' anche marine, che dobbiamo tenere conto che qui era tutta una situazione di bacini profondi e di rocce emergenti nei quali si sono depositati tutti questi materiali, tra cui anche quelli dati dalle ceneri vulcaniche, gli imbriti anche e via dicendo. Negli strati calcari e i noduli di selce di questa formazione si possono trovare anche delle bellissime ammoniti, ammonoidi diciamo, ipotrachiceras e varie altre, che caratterizzano proprio l'ambito cronologico. Vengono utilizzate proprio per identificare, come è avvenuto anche al Chiodo d'Oro, particolari sequenze cronologiche di deposizione di queste rocce che appartengono alla fine dell'anisico e l'inizio e la prima parte dell'adinico. Secondo molti studiosi, poi lì non tutti sono d'accordo sulla datazione, però intorno ai 242 milioni di anni, come al Chiodo d'Oro, dove mi pare che il confine sia intorno ai 241,5 milioni di anni. Eccolo qua, una molto più verde, molto bella, vedete? Ecco, e queste caratterizzano il Bucherstein, chiamato un tempo anche formazione di Livinna Longo, che troviamo anche sulle Dolomiti. Qui ci troviamo andando verso i Ruc e poi salendo verso Pian d'Albè a un bivio, una strada solo per autorizzati che però porta direttamente a Pian di Vaghezza nel territorio di Marmentino, luogo molto molto bello, molto paesaggistico, ai piedi del Monte Ario. Di qua invece abbiamo un altro sentiero che ci porta ai Ruc e poi alla Val Sorda e discende verso anche la Pertica Bassa, nella località Sanaeghe, località Sar. È tutta una rete di sentieri molto importanti per gli escursionisti. Malgaruk, cioè i Ronchi, e Eccolo. Molti si sono chiesti cosa vuol dire Ecol. In realtà io sono riuscito a dargli una spiegazione abbastanza plausibile. Sappiamo, come ho spiegato nella conferenza che ho fatto ieri sulla toponomastica della Valsabia, che in Valsabia la di intervocalica, o anche iniziale in molti casi, quando viene a trovarsi in forma di demarcazione intervocalica, tende a cadere. Per cui al posto di Eccolo vediamo un Deccolo. La E è in una posizione diciamo pretonica, per cui dalla I si trasforma in E, per cui diciamo Malga Dicolo. Il Dicolo in realtà sarebbe un Dicolum, sarebbe un diminutivo di Dicco. Cos'è il Dicco? Il Dicco è una frattura frattura tettonica all'interno di un territorio che mette in contatto rocce di natura diversa o che costituisce appunto una fessura che attraversa il territorio. E di fatti, guardando anche la cartina litologica di tutto il comprensorio, si nota che il territorio è caratterizzato anche la presenza di questi Dicchi che in geologia, se voi andate a vedere su internet, vi danno la spiegazione, sono ampie fessure, piccole faglie, nel territorio Eccol, che troviamo anche come Ecc nel territorio di Mura, anche lì con lo stesso significato. Questo è il Galanthus nivalis, chiamato volgarmente bucaneve. Testimonianza, diciamo, dalla fine dell'inverno, anche perché ho potuto notare la presenza di fiori già dalle primule e di certe anemoni, come l'anemone epatica. Qui tutto intorno notiamo la presenza di calcare diesino, come anche il Monte Lingone in direzione del Sole e qui abbiamo anche un particolare tipo di roccia, chiamato calcare diesino rosso, una variante del calcare diesino, che ha delle variazioni rosate. Oggi sono fortunato. Qui abbiamo un pezzo di roccia, possibilmente a passaggio tra la formazione di buco di stanni e quella di Wengen. E siamo all'Iruc, posto molto interessante, caratterizzato dalla presenza di piante di latifoglie di bosco misto, nocciolo, acero di montagna, frassino di montagna, vari tipi di salici, qualche tipo di ontano e poi soprattutto faggi e conifere come l'abete rosso e come vedete quella pianta che è senza foglie, il Larix decidua, che è l'unica conifera che da noi perde le foglie d'inverno. Il Pian d'Albe è là in cima, verso nord e noi arriveremo là. Però la cosa interessante è che io qua, se l'operatore mi può riprendere, abbiamo, è proprio stata una situazione fortuita, sono andato lì dritto e ho trovato una delle mie passioni e ritornerò a fare il lavoro in maniera più dettagliata, è un articolo di Echinoderma di circa 240 milioni di anni fa, è un crinoide o giglio di mare, costituito da vari bottoncini messi uno sopra l'altro a costituire il loro gambo, ancora adesso sono presenti nel mare e si aprono come dei fiori. Questo è un articolo di appunto giglio di mare e chissà cosa troverò qua dentro, perché vedo vari frammenti, varie immagini particolari, ecco anche qua c'è qualcosa di interessante e questa roccia la sottoporrò a visione filmato microscopico. Qui siamo in un altro ambito, questo potrebbe essere il guscio di un brachiopodo e qui abbiamo un'altra roccia che sono l'etica immagini al microscopio, sono tutti organismi antichi, questi sono tutti piccoli frammenti che osservati al microscopio possono essere dei framiniferi. Un'altra testimonianza vegetazionale l'abbiamo da questa foglia che è una foglia di sorbo montano, sorbus aria, caratteristica dagli ambiti calcari e anche un po' dolumitizzati. Una cosa che devo dire, io vengo qua spesso a raccogliere piante officinali anche commestibili e ce n'è una marea, qui troviamo il chenopodium bronxenricus, poi troviamo la pulmonaria, troviamo mente selvatiche, troviamo anche l'origano un po' più in basso, selvatico e troviamo anche dalle piante estremamente velenose come il veratro e l'aconito napello e bisogna stare attenti quando si raccolgono le piante perché possono esserci dei frammenti di fogli raccolti un po' velocemente che possono andare a inquinare piante invece commestibili. Abbiamo anche il colchico, pianta estremamente velenosa. Qui ci troviamo sul bivio per il sentiero superiore che si ricollega a quello inferiore in località della piazza andando verso Pian di Vaghezza. Come vedete è tutta una rete di bellissimi sentieri da fare d'estate anche per la ricerca di funghi se volete e per tanti aspetti come per esempio questo bellissimo faggio, Fagus silvatica, alla mia destra di cui è ricchissimo il territorio e visto che siamo in ambito di esino forse anche un po' dolomitizzato e lo abbiamo visto anche dalla presenza del sorbo montano e anche e anche del pero corvino a melanchero valis che caratterizza proprio gli aspetti dove c'è la presenza di magnesio. Ecco abbiamo l'erica carnea, poi abbiamo anche la calluna ma non qua perché la calluna preferisce i terreni acidi con la presenza magari di silice o di altre cose e in alcuni casi ci può assistere a presenza di tutti e due ma normalmente l'erica carnea è presente su questi aspetti calcari. In questo aspetto per esempio il calcare di esino dolomitizzato qui abbiamo anche fronde secche per la stagione invernale di Pteridium aquilinum che è una felce, la felce aquilina e poi abbiamo anche la presenza delle leborus niger, pianta della famiglia delle ranuncolace tossica. Ecco a proposito per il comune di Livemmo e Perticalta sto preparando una serie di cartelloni da affiggere in varie località di carattere didattico e alcune verranno poste anche in questo ambito. Uno che ha la presenza di 70 fotografie da me prodotte che spiegano le piante velenose, le piante mortali, le piante di cui è sconsigliata la raccolta e le piante commestibili. Un altro cartellone con tutti i fiori più belli della zona comprese anche 10-12 tipi di orchidee, sto preparando tutto questo lavoro per questa primavera dovrebbe essere pronto e un altro cartellone nel quale faccio vedere tutte le rocce di cui ho parlato prima, tutta la successione del Triassico che qui trionfa. Qui ci troviamo a Pian del Be in dialetto, in realtà sarebbe il Pian dal Be che poi è stato come al solito tradotto malissimo in italiano con Pian del Bene. Qualcuno potrebbe dire il bene come bene comune, come bene dato dal fatto che ci sono delle economie di sussistenza, agrosilvo pastorale, prodotti caseari, pascoli, taglio del legname, no. Pian dal Be è un termine antichissimo, probabilmente addirittura pronto in europeo, che è affine ad Alpe, che potrebbe avere il significato sia di montagna come anche di malga e difatti qui di malga ce ne sono tante, qui c'è una produzione casearia, a campo di nasso, quello là, in fondo c'è la produzione di formaggio, qui siamo nel cuore delle pralpe bresciane, perché da questa parte c'è la valtrompia, un po' più in su c'è la valcamonica, oltre allo spartiacque di Bagolino che è là dietro, qui abbiamo tutto il crinale che divide la valtrompia dalla val Sabbia, dietro in quella direzione abbiamo la corna blacca, che qui non si vede, abbiamo tutti i dossoni che caratterizzano la valle di Lavenone che sale fino a Presegno, fino alle piccole Dolomiti, più in lontananza si può vedere il monte Spino, il monte Pizzocolo, oggi c'è un po' di foschia e poi dietro anche gli avamposti del monte Baldo, in quella direzione. Qui invece abbiamo il monte Tegaldine e questo monte è costituito da Dolomia, più in basso da Arenaria di Val Sabbia, poi c'è una striscia alta pochi metri, che da qui parte e va fino nel territorio bergamasco, costituita dal cosiddetto calcare lastriforme o platen calc, calcare lastriforme o anche calcare metallifero bergamasco e poi vi spiegherò il perché. Vedete quella discesa, quella ganda di rocce? È costituito da vari pietrami che si vedono in lontananza, là dietro c'è il dosso di Monte Osero e più in basso il monte Po di cui abbiamo parlato prima. Dove c'è quella conca, al di sotto della ganda di pietre, c'è un sentiero che sale da Malga-Lasso, dalla località Lasso e che va fino a Piombatico, che è appunto là così, dove vi indico io con le mani, con la mia mano, ecco. Proprio in quel punto là, dove emerge quella conifera, io e il mio amico stavamo salendo due anni fa e abbiamo visto la groppa di un orso scuro e ce la siamo filata alle gambe, siamo tornati di corsa dove avevamo l'auto e quindi non siamo più risaliti da quel sentiero lì e io sinceramente non ci passo più. E questi avvistamenti li abbiamo fatti anche altre volte, abbiamo trovato le impronte nella neve alla fine d'inverno nelle zampe dell'orso e molti le hanno anche visto. Località Presenò, qua sotto. E adesso muoviamoci un po' in direzione oraria, verso sud, da qui si può ammirare, anche se c'è un po' di foschia, tutto il Pedemonte Bresciano, consistente nel Monte Magno, sopra Gavardo e Villanuova e che confina anche con Sabio, Vobarno e Odolo. Poi vediamo i primi contrafforti delle Prealpi in territorio prettamente Valsabino, nel territorio di Agnosine, di Bione, di Odolo, il Monte Poffe, quello che emerge in secondo piano tra Barghe e Vestone e Casto. Lì in fondo invece tutto l'altipiano di Cariadeghe tra Serle, Gavardo e Vaglio, con il Monte Trecornelli e il Monte Uccia, che incombe anche su Caino e Nave. Perché vi mostro queste cose? Perché sicuramente questo è un luogo dove anticamente ci possono essere stati degli insediamenti ancora in fase protostorica, anche perché al di là della stagionalità del passaggio estivo in queste zone, poi ridiscendere nel periodo invernale in basso, sia per l'aspetto venatorio, che poi in seguito anche per l'aspetto dell'allevamento del bestiame, ma sicuramente è un luogo che dava la possibilità di osservare spazi infiniti e di capire cosa avveniva all'orizzonte. Perché a quell'epoca c'erano anche invasioni, c'erano passaggi, c'erano varie componenti che bisognava tenere sott'occhio. Sempre girando in senso orario, vedete quel contraforte tutto fatto a seghe, è la Savallese, il monte che incombe sopra Mura, e poi anche sopra Lodrino con il Monte Paio, Rifugio Nasego, e là i monti della Valtrompia. Sempre salendo in direzione oraria, in fondo vediamo il Monte Guglielmo, è sempre in direzione oraria, in direzione nord, abbiamo il Monte Campeglio, poi là e dietro il Monte Ario, girando sempre in senso orario abbiamo il Monte Pezzeda, e da lì parte il versante che incombe sopra Coglio e Bovigno, cioè la Valtrompia. Anche questo punto di frequentazione con vari sentieri molto importanti, e qui ritorniamo verso il Monte Tegaldini di cui ho parlato prima. Qui siamo impostati sul calcare di Esino, un po' più avanti, a cerniera tra il calcare di Esino e la formazione di Valle Sabbia, di Arenari di Valle Sabbia, abbiamo il calcare lastriforme. Per che località Piombadec in italiano piombatico? Ci sarà un motivo. Bene, vedete la mia destra? Arenaria di Valsabia. Vedete alla mia sinistra, in basso, più in basso, calcare di Esino. Punto di cerniera tra calcare di Esino e la Arenaria di Valsabia, in questo luogo, come recita la cartina litologica Iseo dell'Ispra, passaggio dal calcare lastriforme metallifero bergamasco. Come potete vedere, queste rocce potrebbero suggerire la presenza di piombo o anche di stagno. Che nel passato ci fossero miniere di piombo, ormai dimenticate dalla storia locale, ho chiesto a alcuni storici di documentarsi appunto su questo aspetto di probabili miniere di piombo nel passato, da qui il termine Piombadec. Qui sopra l'arenaria di Valsabia abbiamo di nuovo l'immersione di una roccia chiara che potrebbe essere del San Giovanni Bianco e più sopra la Dolomia principale che caratterizza anche molti versanti della Corna Blacca che è un po' più in là che poi vedremo nel ridiscendere. Ecco, una cosa da dire per quanto riguarda la toponomastica. Monte Pezzeda che è qua davanti proprio a me è da Picceta Pezzeda in dialetto che vuol dire luogo di pezzi cioè di abeti rossi come potete vedere. Invece il campo di nasso deriva da Cap de Nas che in dialetto vuol dire il campo che sta davanti. colgo l'occasione siamo qua al pianile dell'artista Bele Flochini che ci tenevo appunto a intervistare perché ha fatto delle cose secondo me molto interessanti. È proprio figlio di questa natura molto ricca di asperità di aspetti geologici variegati e via dicendo. Vedete questo è il promontorio di Po Podium latino che vuol dire che vuol dire appunto poggio balcone infatti vedete come è bello è proprio un aspetto panoramico. Lì sotto c'è Forno Dono qui c'è il sovrascorrimento del Forno Dono costituito da queste rocce che in basso danno Carniola di Bovenio lì Calcare di Angolo più sopra Prezzo più in là dove lo vedete già un po' strati Buchenstein e sopra il Wengen poi sopra il Wengen abbiamo un po' di arenaria di Valsabia abbiamo dell'Esino un po' di arenaria di Valsabia poi là in cima la Dolomia vedete c'è tutto tutto il triassico si può dire Bresciano a parte il Servino è rappresentato rappresentato qua l'Aldors della Cagna dove io ho lasciato la coppa dell'olio andando a cercare la formazione di Buchenstein e difatti ho sentito Toc e l'ho trovata a color verde come quelle che vi ho fatto vedere prima una pietra vulcanica che taglia come un vasoio benissimo questa è la cornice per spiegare alcune cosine di carattere artistico che adesso vedremo siamo entrati nell'antro dell'artista a bene flocchini che io seguo da un bel po' di tempo perché ci conosciamo già da alcuni decenni ormai siamo avanti con l'età e quindi capitano queste cose è stato un periodo nel quale ero un po' presidente degli artisti Valsabini ma ho combinato poco però ho visto un'evoluzione ho visto un'evoluzione perché come tu giustamente prima dicevi devi fare anche le opere figurative che ti commissionano ma in realtà secondo me le opere che più rappresentano aspetti inquietanti oserei dire enigmatici sono proprio queste sono queste figure veramente oserei dire quasi archetipiche che fanno emergere come ti avevo già scritto una volta ti ricordi? certo aspetti archetipici che mi mettono direttamente in contatto con l'aspetto più razionale nostro più inconscio e il legame con la madre terra mi emergono figure che forse hanno a che fare anche con la madre con figure femminile con divinità femminili antiche penso io queste sono le suggestioni che mi dà ma tu puoi dire qualcos'altro perché ci sono stati sicuramente dei critici più autorevoli di me che hanno affrontato l'argomento in questo senso ti leggo i miei pensieri che io intitolo sui miei elmi che io li chiamo elmi qualcuno li chiama maschere ma sono in legno di questi sono tutti in legno di tiglio e ricoperti ultimamente ricoperti in metallo questi sono ricoperti in ferro e poi trattati da me in forma di ruggine e ricoperti in ferro in ferro e difatti sembrava quasi un vomere di un aratro ecco e hanno questo aspetto che ci stai arrivando perché il vomere è l'aspetto fallico di penetrazione nella terra il dietro invece è l'elemento vaginale lo si vede della terra io vedo anche queste cose è per quello che usi il termine inquiete sono molto inquiete per tante persone esattamente ma come hai fatto a rivestirlo di ferro l'hai rivestito in polvere di ferro e hai pressato o hai messo una lama che è mia non si può spiegare ah beh niente basta l'importante è quello quindi questo è un rosso ruggine ecco trecce femminile che ricordano anche certe acconciature nordiche diciamo di antichi personaggi tipo falchire tipo tutto il mondo mio contadino che ho vissuto esattamente e che io ho chiamato custodi del tempo perché sono custodi del tempo rivivere il tempo realizzando l'origine di un popolo il costume e la religiosità custodi del tempo come una preghiera un invito all'origine tempo mai sprecato tempo che è arrivato fino a noi questo è il mio discorso questi sono ricoperti in ferro tutti indossabili le trecce perché le trecce le trecce mi ricordano le bambine contadine del mio paese quando vedevo mia mamma acconciare la capigliatura di mia sorella tutte le mattine prima di andare a scuola ben rifinite ben curate ma è una cosa disordinata in tutte le bambine dei nostri paesi e queste trecce che sono fili sottili ma se uniti diventano una forza incredibile perché le trecce si vede la filatura dei tessuti che riescono a fare corde potenti con fili esili poi il titolo di tutta l'opera si chiamerò di mondi lontani perché sto preparando una mia personale fra un paio di mesi a maggio e si chiamerà di mondi lontani io prima ho usato pensare a componenti archetipiche perché io sono molto vicino alle componenti archetipi della psicologia junghiana il fatto che dentro di noi si sedimentano tutta una serie di situazioni che discendono addirittura dai nostri antenati di migliaia di anni ma sicuramente e che rivivono ogni tanto dentro di noi quando noi ci troviamo a vedere delle cose che sono enigmatiche inquietanti per noi è perché ci fanno ricordare queste memorie essopite nel profondo del nostro aspetto genetico ma io non ho mai viaggiato ma sono arrivato qua per quale motivo me lo chiedo sempre vediamo questi elmi rame sempre il legno di tiglio ricoperto in rame poi patinato ossido di rame è benvenoso però non leccarlo lo so difatti le opere mi hanno detto non vanno nemmeno toccate perché comunque è polvere di rame sì ecco queste sono molto femminili oserei dire una cosa dal mio punto di vista che io sono appassionato di geologia e di paleontologia sai che sto facendo un lavoro tutto sui microfossili che trovo qua al microscopio sono inquietanti anche perché possono ricordare addirittura le figure di certi fossili del siluriano di epoche antiche mi ricordano questi elementi certo sì e quindi dov'è l'umano? non lo so il fatto è che l'umano discende per evoluzione certo e quindi ha mantenuto dentro di sé nel tuo ricordo elementi antichi secondo me queste le ho ritrovate nelle mie montagne questi ricordi questi elmi li ho sviluppati andando per boschi perciò me li ritrovo sempre dentro me li vedo sempre dentro nei miei sentieri ecco io un po' di tempo fa parlavo con una psicologa su questi aspetti di come si percepisce la realtà che molti non hanno questa capacità o questa follia l'ho chiamata io non mi dice non è una follia perché io dicevo da quando avevo analizzato il monte cavallo con questo cerchio di pietre grandissime tutta la valsabbia tutta la zona per il monte bresciano io ci mettevo dentro dei percorsi geoglifici spirali figurine sono arrivato a un punto che io facevo rimangere tutte queste componenti allora poi alla fine gli ho detto ma e se fossero sentieri antichi religiosi sacrali che poi li hanno utilizzati anche per altre cose e hanno lasciato il segno poi le piante crescono e lasciano questa impronta quindi persone sensibili come tu hai fatto come ho fatto io siamo artisti abbiamo e che poi adesso ho messo anche nei miei quadri con i fossili li ho tradotti nei quadri le immagini che ho fatto al microscopio e quindi percepiamo quelli che altri non percepiscono cioè queste figure sensibilità quello che ho scritto io me lo stai dicendo tu ecco capito nei miei sentieri io ritrovo quelle cose qua sono fossili questi nei sentieri effettivamente questi sono fossili ecco nei sentieri qualcuno ha marcato qualcuno sono sotterrati qualcuno sono emersi basta basta ma è perché i sentieri in realtà lo dicevo ieri io ho fatto una conferenza sulla toponomastica della Val Sabia lì a Arcai e ho detto voi non dovete lasciare abbandonare i sentieri io adesso pian piano li sto segnando a tutti perché anche la rete di sentieri che va da Magno fino a Sabio sono orientati in una maniera tale per cui io sono convinto che sono il retaggio di un'antichità nella quale i sentieri funzionavano da percorso sacrale rituale certo e quindi sono ricchi ecco perché parlavi tu di sentieri vedi che c'è un'assonanza in questo senso ma difatti vedrete un altro elmo di là che tanti elmi li ho colorati con degli acrilico blu e rosso perché blu e rosso io vedo i sentieri adesso del cai che sono colorati di blu e rosso è una marca sì è un marco un altro titolo che do a questi miei pensieri è passi dei miei passi vecchi dei miei vecchi nel senso io percorro i sentieri che tu dici esattamente l'ultima volta su facebook e ci tengo a dirlo non voglio sbrodolarmi ma è perché quasi mi commuove questo aspetto che altri provano queste sensazioni in realtà tante volte mi trovo solo di sbatterse allora ho detto sono pronto per altre sinaptiche escursioni perché sinaptiche escursioni come ho spiegato ieri tante volte noi troviamo la magia dei sentieri perché non lo sappiamo ma ci fanno riemergere questi percorsi nella nostra infanzia nella nostra adolescenza i percorsi ramificati dalle nostre sinapsi cerebrali quindi noi attraverso questi sentieri giochiamo a recuperare certi aspetti sopiti lontani remoti nel nostro cervello e qui qualcuno li lascia dormire qualcuno si siamo spiegati siamo riusciti a togliere il nocciolo dieci anni fa io sono arrivato qua prima facevo il figurativo e mi divertivo con quello poi mi è successo qualcosa dentro io devo marcare la mia arte non posso essere ignorante a questo devo marcarla sono 58 anni che calco le mie montagne i miei sentieri l'arca dei pensieri che si trova su qua noi l'abbiamo sempre chiamata nel nostro paese arca archetipo qualcosa di magico arca vuol dire principio archè in greco ma vuol dire anche secondo alcuni una signora dei boschi l'arca l'ho trovata in un glossario mi pare della valcamonica che hanno dato questa definizione che sono parole di origine gallica celtica chi lo sa però c'è anche questo aspetto c'è sempre la signora dei boschi secondo me c'è sempre tu non sei mai stato nell'arca dei pensieri no sono mai stato ti dà un'energia franco che è una cosa incredibile ma Susanna questa enorme roccia spaccata con dentro 37-38 opere fatte dai miei allievi e da me in 3 o 4 titoli che ti dà un'energia incredibile tu segui 7 gufi da Avenone il settimo gufo sei nell'arca dei pensieri ecco benissimo e la prossima volta andiamo a fare anche questo potrei anche intitolarla percorsi magici in valle sabbia ci troviamo a monte del territorio di Forno Dono precisamente nella valle del Degnone che qui assume tutta la sua caratteristica più interessante vediamo la deposizione del calcare di prezzo vediamo di nuovo queste pietre verdi che sono tuffiti vulcaniche che testimoniano il passaggio dello strato della formazione di Buchenstein vediamo quel bastione là in fondo costituito sempre da Buchenstein e da Wengen dal quale discende una cascata bellissima che si chiama la cascata dell'acqua bianca tanto è spumeggiante l'acqua e che dà proprio questo colore lattiginoso addirittura voi non vi immaginate ma salendo per questo percorso che è lungo alcuni chilometri si arriva fino sulla Corna Blacca quel bastione bellissimo che abbiamo visto prima e si incontrano componenti molto ma molto interessanti dal punto di vista vegetazionale dal punto di vista anche geologico là in cima ci sono dei massi con dentro delle ammoniti di questa grossezza con vari colori è una valle impervia ma sicuramente molto ma molto interessante anche per questa cascata dell'acqua bianca e da qui si ripartono tutta una serie di percorsi che poi risalgono verso la Caserana verso Onodegno e via dicendo questo Torrente Degnone trasporta a valle rocce che provengono dai dossi più in alto di circa un chilometro come questi massi di calcare di esino che non sono di questo ambito e sicuramente lì dentro si possono trovare anche cose molto interessanti con queste rocce verdi tuffiti testimonianze della formazione di Buchstein e anche quelle rocce stratificate lungo il fiume Degnone che sono la formazione la calcare di prezzo testimoniano il passaggio dall'anisico all'adinico con che cosa con un mare che si approfonda e con la deposizione di appunto questi materiali che determineranno appunto la formazione di queste forme calcare vedremo in una prossima puntata come tutte queste componenti si susseguono nel tempo mostrando anche delle cartine che fanno vedere questo golfo della Tetide che Aspetti assumerà durante il corso delle varie aree geologiche di popolare di popolare che di popolare di popolare Grazie a tutti Grazie a tutti